A suo tempo è stato prodotto un esposto che ho firmato da me e tanti attivisti di cui va il merito di aver appunto svolto questa attività di raccolta di informazioni in merito ai cosiddetti affidamenti diretti alle imprese amiche. Perché a noi è sembrato strano che per un volume d'affari di circa 2 milioni di euro il Comune di Cosenza si servisse sempre per affidamento diretto delle stesse ditte e quindi abbiamo posto all'attenzione della Procura certe per noi evidenze che sembra adesso abbiano dato luogo all'operazione di questa mattina. La responsabilità penale è imputata ai dirigenti ma secondo lei c'è un livello politico che è coinvolto? Guardi questo lo dovrà accertare la Procura e il Tribunale eventualmente. Noi diciamo che c'è certamente una consapevolezza politica altrimenti i politici significa che dormono mentre i dirigenti fanno.